Una cosa molto interessante se avete difficoltà a sventire i tricipiti è allenarli dopo la schiena perché sostanzialmente tutti i muscoli, i bicipiti, i tricipiti, i spalle in generale che si inseriscono a livello scapolare sulla scapola, o meglio sulla scapola omerale beneficiano veramente tanto da una stabilizzazione scapolare Cos'è che stabilizza bene la scapola? Il back Quindi quando avete il back in pump lo sentite bene, bello contratto, bello carico di sangue avete un'ottima propria scezione Andate a fare i tricipiti, riuscite a stare molto stabili e a bloccare bene le scapole E si tratta, veramente è fondamentale il discorso del bracing e mantenere una buona stabilità nelle selezioni Per le braccia si tratta di lavorare a livello scapolare Le scapole devono essere fisse nella roccia ferme e deve muoversi soltanto il tricipite che si allunga e si accorcia